Elogi e complimenti da parte della sindaca di Battipaglia Cecilia Francese per il salvataggio di due persone lungo la renile battipagliese sulla spiaggia dell'ex Lido, Havana, da parte di alcuni bagnini. La prima cittadina utilizza ancora una volta la sua pagina Facebook per diffondere la lieta notizia nel post se vince. Apprendiamo con grande gioia la notizia del salvataggio di due persone da parte dei nostri bagnini iscritti al FIN salvamento Battipaglia, avvenuto nella giornata di materi 18 agosto. Entra poi nel dettaglio dell'operazione di salvataggio evidenziando il grande lavoro e la professionalità dei bagnini. In particolare i due bagnanti, un uomo e una donna, si erano allontanati troppo dalla riva e non riuscivano a rientrare a nuoto a causa del mare agitato. A seguito di ciò i bagnini Alessandro Adinolfi, Salvatore Alaimo, Vincenzo Russo e Antonio Mucciolo provvedevano immediatamente ad utilizzare la barca di salvataggio, riuscendo tempestivamente a trarre in salvo i due malcapitati. L'episodio è avvenuto nei pressi della spiaggia dell'ex Lido Havana, complimenti davvero. L'invito per tutti i bagnanti è di non allontanarsi troppo in mare, anche quando le condizioni meteo sono favorevoli e non si registrano onde e mare mosso. L'apontanarsi troppo in mare,udos per ahi! Grazie a tutti.